Essere qui all'oleificio Barbera è un input per parlare di agricoltura, delle eccellenze siciliane ma anche di un comparto che ha bisogno di risollevarsi vista la crisi che lo attanaglia da anni. Sì, devo dire che l'agricoltura siciliana è la leva più importante in questo momento del prodotto interno ordo siciliano. Senza il contributo all'apporto dell'agricoltura e il prodotto interno ordo siciliano sarebbe in crollo per avere molti comparti che invece arretrano. L'agricoltura può essere non solo un elemento importante ma diventare quello davvero trainante sia nella produzione che nella trasformazione del prodotto e lo può fare attraverso investimenti e utilizzo pieno dei fondi europei. Le vicende connesse al cosiddetto PSR cioè al programma europeo che è stato sostanzialmente devastato all'attuale governo regionale dimostra quanto l'incapacità nella gestione delle risorse europee poi determini un'incapacità di spenderle. Dobbiamo completamente cambiare l'impostazione. Si è perso troppo tempo, occorre correre perché a breve scadrà il programma e siamo con l'acqua alla gola. Il governo Crocetta del PD ci consegna una situazione disastrosa però con un'accelerazione seria si potrà risolvere la situazione con l'impegno di tutti e con la determinazione che un nuovo governo potrà dare alla spesa europea. Grazie. 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 Grazie.